Tra le priorità del nuovo comandante della polizia locale dell'amministrazione De Prisco c'è l'assunzione di 5 unità di agenti di polizia locale e l'assunzione full time di 3 agenti già in forza al comando di via Pittoni. Con queste premesse è iniziata la conferenza stampa di presentazione del nuovo comandante dei caschi bianchi, Lucio D'Apolito, proveniente dal comando di Melfi. Il comune di Pagani è un comune complesso, tanti sono gli obiettivi ma se non c'è una svolta anche dal punto di vista politico e istituzionale di un supporto corte i risultati ahimè possono essere poco significativi e poco apprezzabili. C'è tanto da lavorare, la situazione è molto molto complessa, risultati anche minimi, impegno anche minimo possono essere dei buoni risultati. Le problematiche sono tante, sono sotto gli occhi di tutti, dalla gestione dei rifiuti alla circolazione stradale a praticamente zone del territorio non servite dalle istituzioni. Però l'istituzione so che è molto presente, come sono presenti anche altre istituzioni sul territorio, c'è bisogno un po' di coordinarsi e lavorare per obiettivi. Per avere dei risultati, vi ripeto, apprezzabili da parte della comunità c'è bisogno dell'impegno con poche cose da portare avanti. Mettere tutto insieme significa rischiare di non poter raccogliere poi nulla. Per quanto riguarda il personale che l'aiuterà in queste attività ordinarie ed emergenziali, cosa pensa che è il numero adeguato oppure ci dovrebbe essere un ampliamento? La legge regionale prevede un dipendente ogni 800, uno ogni 600 in realtà complesse come Pagani. Pagani in realtà complessa dovrebbe avere quindi un dipendente ogni 600 più di 50 dipendenti. Ne abbiamo 17. Di questi 17 non tutti sono idonei allo svolgimento delle funzioni esterne di polizia locale. Il problema della polizia locale, del personale in particolare, rispetto ad altro personale dell'ente, è dipeso molto da scelte politiche, ovvero da un'indifferenza. Dal 1996 in poi, legge Prodi, nasce il blocco delle assunzioni. 5 milioni e 400 mila dipendenti nel 1996, 3 milioni e 200 mila adesso. Potete immaginare 2 milioni e 300 mila dipendenti venuto meno di 20 anni. La polizia locale e i servizi sociali non hanno mai avuto il blocco delle assunzioni. Nonostante ciò però gli enti non assumivano e quindi si è creata una situazione di dieta regolare per tutti gli enti e non salvaguardando alcuni settori importanti. Il risultato è questo. Dovete immaginare che contemporaneamente a questa riduzione di organico, noi abbiamo assistito a due sviluppi verso il basso delle funzioni. Una volta si parlava, forse ricordate, la sussidiarietà nel 2000. La sussidiarietà significa trasportare le funzioni dall'alto verso il basso. Contemporaneamente però i dipendenti dal basso andavano verso l'alto, cioè scomparivano. Quindi più funzioni meno organico. La situazione attuale di tutti gli enti è questa, dei comuni limitrofi è questa, del sud Italia è questa. La soddisfazione per l'arrivo del nuovo comandante è stata espressa dal sindaco Raffaele Maria De Prisco. Per il comandante d'Apolito si prevede un importante battesimo. Sarà un mese in cui avrà un battesimo importante il neocomandante, perché anche il mese, penso, dove si svolgerà la Madonna delle Galline, piuttosto che la processione del venerdì santo, attendiamo l'ufficialità, ma comunque sono mesi in cui si lavora ancora di più. C'era una ZTL da far partire, ci sono tante contravenzioni da fare. Per cui non è un semplice battesimo questo del comandante. Certamente a lui, come al sindaco, come in altre figure, non possiamo chiedere i miracoli in brevissimo tempo. Però dare dei segnali importanti è di fondamentale importanza.